Pol, sette e mezza a casa andiamo dai! Si io sono tranquillo, tu inizi a chiudere, io finisco di caricare questa copa e poi vado anch'io. Ok, ciao Pol, ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao Pol! Ma sei stato qua tutta la notte a ristare roba, senza mai alzarmi e senza mai andare in bagno? Ah, e quelli non sono più sconti. Oh! Scusa, avrei problema con questo telefono? Dimmi! Eh, a volte non prende. Ma qui prende? Eh, ma quando sono a casa non prende. Ma scusa, tu dove abiti? Io abito a Cappannette di Casal Maggiore di sotto. Ok, lì penso che non prenda neanche la luce del sole, guarda. Ah, ok, ok. Io invece, scusa, un altro problema. Io a volte quando guido provo ad attaccare in viva voce ma non sento niente. Ok, ok, ma che macchina hai? Cioè, ce l'hai il Bluetooth? Ah, no, no, io vado in bici. Un'ultima cosa solo. Guarda, ho scaricato sul telefono Flatnix per seguire la mia serie preferita, però l'ultima stagione è un po' piatta. Guarda, non si può averne di più divertenti. Guarda, per un po' più di azione un'idea ce l'avei. Aspetta qua. Guarda, guarda, guarda!